Ciao a tutti, sono Antonio Scaffidi, con questo piccolo tutorial voglio portarvi all'interno del nostro sito Corsi. Quindi la prima cosa da fare vado a segnarmi corso.nobilmetal.com e vi troverò in questa home page. A questo punto clicco qua sulla destra, registrazione, e vado a compilare tutti i dati che in questa pagina mi vengono richiesti. Fatto questo, cliccherò su registrati, tornerò su in altro e cliccando su login andrò all'interno, caricando le credenziali con cui mi sono registrato, entrerò all'interno del portale. Scusateci le spalle, intanto. A parte questo, scendendo troveremo praticamente l'icona vedi tutti, andando qua dentro praticamente troverete tutti i corsi che la nobilmetal vi offre. piccola cosa, qua andando su questa piccola icona troverete praticamente andando nella sezione materiali, tutti gli STL che noi sistematicamente cambiamo durante alcuni periodi con questi appunto file che potrebbero essere utili per la vostra formazione. Quindi, tornando qua, vado su Sinergy Training Academy, entro nei corsi online ed ecco che mi si apre il mondo dei corsi che abbiamo creato per voi da fare in webinar. Praticamente, cliccando all'interno di ogni singolo corso, come vedete ce ne sono tanti, e di conseguenza potete crearvi il vostro percorso formativo come meglio credete. Andando all'interno troviamo l'evento, il programma, quindi spiegheremo tutto quello che voi vedete scritto, troverete l'orario del corso e la durata, le date disponibili e l'iscrizione. Quindi, scegliendo la data, praticamente in automatico vi arriverà poi un via email, il link dove dovete poi andarvi a collegare. Torniamo indietro sui corsi online, vi facciamo vedere anche che abbiamo creato per tutti gli utenti Sinergy, questo corso di scansione gratuito. Anche qua, andando dentro, trovate l'evento, il programma, quindi con tutto quello che noi andiamo a spiegare nel software di scansione, quindi molto interessante perché offre tantissime soluzioni, quindi vi andremo a far vedere come usare in maniera guidata, in maniera semi guidata e completamente siete voi che invece guidate il software per come praticamente volete eseguire le vostre scansioni. Quindi è veramente una cosa molto interessante. Tornando alla nostra home page, voglio ricordarvi che abbiamo attivato il canale YouTube nobilbetal4u, chiaramente scrivete, scusate se lo dico, nobilbetal4u e entrate all'interno dove troverete tutte le pillole che praticamente abbiamo fatto durante le dirette in questo periodo. Ne stiamo preparando delle altre che saranno quindi visibili sul canale YouTube. Inoltre abbiamo attivato altri due canali nella stessa pagina dove in uno parleremo di attacchi e in un altro c'è Angelino che praticamente sarà fino che vi farà vedere dei format su quanto riguarda il cam. Spero di essere stato utile, vi saluto e ci vediamo presto. Ciao a tutti. Grazie.